Ciao, mi chiamo Elvira Stragliotto e sono una psicologa del lavoro e delle organizzazioni. Ho un passato come HR manager, pertanto ho vissuto le realtà organizzative in prima persona. Alle persone che mi contattano fornisco consulenza soprattutto nell'ambito dello sviluppo personale e all'interno del proprio contesto organizzativo. Mi puoi contattare se ti senti professionalmente demotivato, disorientato, poco confidente nell'ambito delle tue comunicazioni o nell'ambito delle tue relazioni. E come spesso accade, il confronto aiuta ad accrescere notevolmente la consapevolezza, il benessere e ad agire in modo più efficace. Insieme possiamo provare ad individuare le tue aree di miglioramento, il tuo potenziale e provare a raggiungere concretamente i tuoi obiettivi. Ho scelto Mindwork, poi che ho incontrato colleghi professionali, la piattaforma di semplice utilizzo e la consulenza a distanza è più vicina di quanto tu possa immaginare. A presto! Grazie a tutti!